L'ultimatum imposto venerdì scorso da Nicola Canonico per la cessione dell'intero pacchetto societario è scaduto nella giornata di ieri ma un nuovo spiraglio si sarebbe aperto per dar seguito ai 105 anni di storia del calcio di Biceglie. I dirigenti locali attraverso un comunicato stampa hanno riferito l'interesse di una cordata di imprenditori forestieri intenzionata proprio a rilevare le quote del club nero-azzurro stellato. I punti essenziali per completare la procedura però sono sempre gli stessi sostituire la fideiussione di 350.000 euro precedentemente garantite da Nicola Canonico e versare la quota di iscrizione pari a 55.000 euro per il campionato di Serie C per una somma complessiva dunque di 405.000 euro. Se l'operazione dovesse andare in porto gli attuali dirigenti bicegliesi resterebbero comunque in società con una quota minoritaria. Sempre molto attive le pugliesi di Serie D in attesa che vengano definite in maniera certa le posizioni di Bari ed Andria. Colpo in attacco per il team Altamura che si garantisce per la prossima stagione le prestazioni di Savino Leonetti attaccante andriese ex gravina. Fa sul serio anche la matricola Fasano che prende Ceic Tidiane Diop, terzino sinistro senegalese classe 99, già a lavoro con Giuseppe La Terza nel ritiro di Campitello Matese. Il Nardò invece pesca dal Salento ed ingaggia Marco Mingiano, attaccante del Gallipoli. Campionato di eccellenza, batte un colpo in entrata il Barletta. È ufficiale infatti l'arrivo di Alfredo Varsi, esterno offensivo ex Cerignola e Campobasso. Certe pure le conferme dei giovani Fanelli, Cristallo, Caposele e Filanito. Quest'ultimo assegno nel play-out contro l'Unione Calcio Biceglie. Il Trani inoltre ufficializza l'arrivo di Antonio Serino, terzino Juniores, ex Sporting Fulgore in Serie D. E conferma un altro giovane per il pacchetto arretrato, vale a dire Alessio Cepele. Attivo anche il Molfetta Calcio, il DS Gianluca Frascati mette a disposizione del tecnico Pino Giusto. Il portiere Raimondi e il centrocampista Fidanzia, oltre alla conferma di Corallo, restano a Vieste infine Raiola e De Vita.